Sto viaggiando tutta la norma Esatto Eh lute LUT! LUUUT! Ok eh Sicuramente ci sarà qualcosa qua sullo scogliero ogni tanto Eh lute Dove? Cioè in un posto un po' più inculato non lo potevano mettere comunque Assurdo Mi vedi? Che cazzo Qua lute Ah Ok Qua Quindi in ogni regione c'è tipo il giro degli uti da fare Proprio In ogni zona Qua 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 E' Ok Eccolo Eccolo Perfetto Via Dobbiamo farlo retro Buono 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 Stonfiggi le squadre Ah quelli di estrazione Guarda in aria e vedi se arriva un'astronave Ah dove? Ah tipo l'idea lì Yes Sì a sinistra Sì Ma vedo Dipende dove si ferma però Tieni le super per dopo che dopo ci sono delle squadre più forti Sono usata Oddio Dio Ah Perfetto Perfetto Guarda in aria Piuttosto No Yes Ok Devi andare a Forgot Oh yeah Non ci date niente No Gas Forgot in due minuti Dov'è Forgot Vieni con me Spin Qua c'è la Spin Matter se vuoi Un prampo lontano Guarda Quastile Hola We might want to check this out Vi ha trattato la clavissione C'è l'inversario Ah vai vai Speriamo non sia buggato Oh E' a te Giallo scudo di nuovo Ma che che è Guarda tu scudo Ma sto scudo? Non lo so Gli torno in continuazione Non lo so Non lo so E' a te 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 Kiccalo Kiccalo Fuori Qual'è il trassimo? Fuori Tarantella Via Qual'è il trassimo? The Divide Un po' minuto Vieni